Un momento lungamente atteso e fortemente voluto. Papa Francesco ha incrociato gli occhi della Vergine di Guadalupe che custodisce gli sguardi di coloro che la contemplano riflette il volto di quanti la incontrano. Nella Basilica, precisamente nel Camerin, dove custodita la venerata immagine della Morenita, il Pontefice è rimasto a lungo raccolto in preghiera in un silenzio vibrante e riverente. Ai piedi della Vergine, che nel dicembre del 1531 risvegliò la speranza dell'Indio Juan Diego e del suo popolo, Papa Bergoglio ha posto gli affanni ai dolori degli sfollati, degli emarginati, delle madri, dei padri, dei nonni che hanno visto i loro figli partire, li hanno visti persi o addirittura strappati dalla criminalità. Il momento di raccoglimento è stato preceduto dalla messa durante la quale il Pontefice ha anche offerto una corona all'effigie. Il santuario di Dio è rimarcato nell'Omelia e la vita dei suoi figli, di tutti e in tutte le condizioni, in particolare dei giovani senza futuro, esposti a un'infinità di situazioni dolorose e quella degli anziani senza riconoscimento, dimenticati in tanti angoli. La donna del Sì ha proseguito, ci ricorda che le lacrime di quanti soffrono non sono sterili, che si possono costruire santuari ogni giorno, condividendo soprattutto con quanti sono schiacciati da una croce la consapevolezza che non siamo soli e che tutti siamo necessari, in special modo quelli che normalmente non contano perché non sono all'altezza delle circostanze o non apportano il capitale necessario per la costruzione delle stesse. Grazie. 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 Grazie.